10.000 donne e 6 anni? Presidente... Non è possibile. Presidente... È una fracchia news. È una fracchia news. Cosa? Frac, fru. È una frundrum. Buonasera, Presidente Berlusconi. Com'è che si dice quando c'è una notizia che sembra vera, ma che secondo me non è vera? Fake news. Ah. Sì, sì, sì. Sì, sì, si chiama così. E com'è che si dice quando lei mi dice una cosa vera, ma che secondo me non l'ho capita? Non lo so. Vede che allora siamo in due. No, mamma mia, senta... 10.000 e 6 anni, dai, non è possibile. Cribbio!